Come sto? Guardami, ti trovo bene, sai. Puoi togliere il flash, per favore? Mi hai eccecato. Ma ti sembra cosa di sparare un flash così a uno come me? Non vedi che sono proprio sto male? Puoi togliere il flash, per favore? Non hai rispetto per niente. Perché non mi dai il cellulare che ti chiamo? Mi dai il tuo cellulare per favore?